Dramma nella serata di ieri intorno alle ore 19 in località Bosco di Albanella esonda il malnome a causa del violento maltempo e travolge l'auto in cui si trovava Desiree Quagliarella, 26enne originaria di Stio ma che conviveva ad Albanella. Nella vettura si trovava anche il cognato che si è riuscito a salvare e che in vano ha provato a salvare dalla potenza immane delle acque anche la ragazza. La giovane purtroppo non è riuscita a scampare alla violenza della piena del torrente esondato proprio mentre i due transitavano nelle sue vicinanze. Appena accaduta la vicenda sono accorsi sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, croce rossa ma anche il sindaco di Albanella e gli abitanti del posto per ricercare la ragazza lungo le sponde del malnome. Ricerche che però sono durate poco più di un'ora quando è stato ritrovato il corpo di Desiree senza vita. Il grave maltempo che ha colpito in questi giorni varie zone della regione spezza una giovane esistenza, innamorata della vita e del compagno con il quale era in procinto di sposarsi. Tanto il dolore nelle due comunità di Stio ed Albanella ma anche in tutto il Cilento per una tragedia che lascia senza parole.